dietro del cavalli con delle persone che ha fatto come ciò con carica ma loro non sento un golo come z'amore prima è un grito che lo so dopo un po' penso che è così quindi non mi parlo in una casa che deve chiudere tutte le quali che fa il mondo, sicuramente se si fa questo, forse lo chiede, e dopo vedo un apri, vedo un apri bene il campo e forse oggi deve essere più gratuito e invece, no, deve essere più, più costante, più altissimo, perché c'è arrivato che è arrivato che è arrivato che è arrivato, è arrivato che è arrivato, è arrivato, è arrivato, è arrivato perché no, la difesa a volte soffre, però soffre perché, perché erano anche questo del massacri e del massacri sicuramente che va, mi dico che la madre, che è il progetto è arrivato, è arrivato, è arrivato.